Bene ragazzi, noi siamo all'interno della termodinamica, abbiamo appena fatto i gas perfetti e le trasformazioni, abbiamo visto la trasformazione isoterma, isocora e isobara e le relative leggi di Boyle e due leggi di Gelussac. Poi abbiamo visto come poter rendere grafica una trasformazione grazie ai grafici di Clasius Kleperon e adesso io devo introdurre un concetto perché per arrivare all'equazione dei gas perfetti dove all'interno c'è una lettera che simboleggia il numero di moli, vi devo spiegare perché bisogna utilizzare le moli. Ovviamente voi le moli forse le avete già fatte in chimica o comunque in scienze e la domanda è ma perché io devo usare le moli? Perché ad esempio non posso usare un altro modo per contare quante particelle ho all'interno? Beh, in realtà perché è comodo? Ed è comodo per due motivi. Innanzitutto vi ho detto che tutte le trasformazioni isotermi, isocora e isobara, bene, in queste trasformazioni va bene, nell'isoterma ad esempio rimane costante la temperatura, ma c'è anche una quantità che rimane costante, la massa. Ecco però io ho un piccolo problema perché io vi ho detto che i gas perfetti, che noi trattiamo ossigeno, azoto, idrogeno, hanno tutti la stessa costante alfa uguale a 1.273.15. Però ovviamente la massa di 10 molecole di ossigeno e la massa di 10 molecole d'azoto è diversa. Quindi ovviamente se io nella mia equazione dovessi introdurre il concetto di massa dovrei stare attento a quale tipo di gas sto utilizzando. Bene, questa cosa non è molto comoda. E infatti è vero che nelle trasformazioni noi non cambieremo sostanzialmente mai la massa, però non è, diciamo, una grandezza fisica che è indipendente dal tipo di gas che si usa. Noi invece dobbiamo utilizzare una quantità che potrebbe ad esempio essere, che dovrebbe essere indipendente dal tipo di gas che utilizziamo, che potrebbe ad esempio essere il numero di particelle. Infatti, probabilmente la pressione, la temperatura e il volume potrebbero darci un'indicazione sul numero di particelle, non tanto sulla massa. Solo che qui c'è ancora un altro problema. In un volume macroscopico, dove magari, ad esempio, in una bottiglia d'acqua, voi sapete quante particelle avete? Eh, più o meno ne avete, senza sbagliare di tanto, 10 alla 24. Capite che è poco agevole utilizzare nei conti questo numero. Quindi, il numero di particelle ci piace di più rispetto alla massa, perché è indipendente dal tipo di gas. Quindi avere, per un gas perfetto, 10 alla 24 atomi di ossigeno, 10 alla 24 atomi di azoto, ok, rende il fatto che sia ossigeno o azoto, questa differenza non è importante. Ma, ovviamente, però è un numero scomodo, perché dire passami 10 alla 24 particelle non è veramente in italiano molto comodo, ma poi non è solo un problema di italiano, è anche un problema di calcoli. Che bello se ci fosse una sorta di grandezza, che poi ovviamente è la mole, che ci fa capire quante particelle abbiamo, ma è una quantità molto più comoda. Sia per capire effettivamente quante particelle abbiamo, perché dice la 24 poi non si capisce bene, ma anche per fare i calcoli in modo agevole. È per quello, ragazzi, che entra il concetto di mole. Come faccio a definire un numero rispetto ad un altro? Ebbè, allora, parte Avogadro con una sorta di convenzione. Cioè, lui sa che un atomo di idrogeno pesa all'incirca 1.6605 per 10 alla meno 27 chili. Però, storicamente, i chili sono, anche se magari non lo sapete, un'unità di misura abbastanza recente, perché ovviamente una volta si usava il sistema CGS. CGS, quindi centimetri, grammi e secondi. Invece noi usiamo il sistema MKS, metri, chili, secondi. Quindi, ovviamente, torniamo indietro nel tempo, un atomo di idrogeno aveva una massa di 1.6605 per 10 alla meno 24 grammi. Beh, Avogadro si è chiesto una cosa molto semplice. Quanti atomi di idrogeno ci sono in un grammo di idrogeno? Visto che un atomo pesa tanto così, ovviamente io per trovare il numero di atomi di idrogeno, per avere un grammo di idrogeno, devo ovviamente fare 1, un grammo, diviso la massa di un atomo di idrogeno. E sapete che il numero salta fuori? Ovviamente è un numero gigantesco, perché io devo avere tantissime particelle, no? Per avere un grammo. E salta fuori un numero che è 6,022 per 10 alla 23 senza unità di misura, perché avrei, vabbè, al massimo t'ho particelle. Bene ragazzi, questo è un buon indicatore delle particelle. Questo numero si chiama numero di Avogadro. Poi, in realtà, al posto, questa è tanto per cultura, però l'idea è questa, poi, in realtà, al posto di un atomo di idrogeno come, attenzione, unità di massa atomica, quindi unità di massa atomica è questo valore qui, si è preferito utilizzare, e si discosta di pochissimo, non la massa di un atomo di idrogeno, ma di un dodicesimo del carbonio 12. Questo perché, in realtà, l'idrogeno ha anche degli isotopi, e quindi la massa dipende dall'abbondanza relativa, invece se ne usiamo, come riferimento, un dodicesimo di una cosa che pesa 12 volte l'idrogeno, sostanzialmente non cambiamo di tanto il discorso. Quindi, perché, ragazzi, è così bello utilizzare le moli? Adesso ve lo faccio capire subito. Prendiamo, ad esempio, l'ossigeno molecolare. Ecco, l'ossigeno molecolare ha O2. Se noi prendiamo una molecola di O2, qual è la sua massa? Allora, noi dovremmo andare a prendere la tavola di Mendeleev, ma più o meno la massa di una molecola di O2 è 32 che cosa? È 32 unità di massa atomica. Quindi la massa dovrebbe essere 32 per 1,6605 per 10 alla meno 24 grammi. Però vedete che è molto più comodo dire una molecola di O2 pesa 32 unità di massa atomica. Ma qual è la magia? Che se io adesso vi chiedo qual è la massa di una mole di O2, per come è stata definita, io, per passare da una molecola ad una mole, semplicemente moltiplico per il numero di Avogadro, no? Perché in una mole ci sono, in una mole di O2 ci sono, c'è un numero di Avogadro di molecole di O2. E quindi per trovare la sua massa, io dovrei anche qua moltiplicare per il numero di Avogadro, no? Io qui ho un numero di Avogadro di 32 unità di massa atomica. Ma per come è stata definita, ed è questo il colpo di genio, ed è qui che i ragazzi intelligenti capiscono. Se io moltiplico un'unità di massa atomica per il numero di Avogadro, ok? Ragionando in grammi, quindi se io faccio questo per questo, non bisogna stupirsi del fatto che il risultato faccia uno. Eh, ragazzi, perché appunto in una mole di particelle di, e ogni particella pesa un'unità di massa atomica, perché avevo preso l'idrogeno, un dodicesimo di carbonio 12, l'avevo appunto definita come quel numero di particelle che riescono a crearmi un grammo di sostanza. Quindi un numero di particelle di unità di massa atomica fa un grammo. E quindi, se io vado a moltiplicare l'unità di massa atomica, quindi dovete immaginare un atomo di idrogeno, per il numero di Avogadro, ottengo un grammo. E beh, ragazzi, il numero di Avogadro è stato definito apposta. E quindi, è per questo motivo che vengono introdotte delle moli, perché una mole di O2, allora, peserà 32 volte un grammo, quindi 32 grammi. È per questo che c'è corrispondenza tra il numero che noi leggiamo in Mendeleev e la massa di una mole, quindi la massa molare. Perché se un oggetto pesa 63 unità di massa atomica, 63 unità di massa atomica, allora una mole di quell'oggetto pesa 63 grammi. Perché io appunto ho preso un'unità di massa atomica, l'ho moltiplicata per il numero di Avogadro, che è proprio quel numero che se tu moltiplichi un'unità di massa atomica fa venire un grammo, quindi non è un trucco. È che questo numero, se tu lo moltiplichi per un'unità di massa atomica, è un grammo, ok? Quindi la furbata e la bellezza di questo numero è che se tu lo moltiplichi, lo continuo a ripetere, per un'unità di massa atomica, viene fuori un grammo. E quindi c'è una corrispondenza molto bella tra la massa di una molecola in UMA e la massa di una mole in grammi. Perché ovviamente, per come è stato definito il numero di Avogadro, i due numeri sono gli stessi. Solo ovviamente che una molecola è espressa in UMA e una mole è espressa in grammi. Chiudo, ovviamente, dopo che voi siete diventati ultra intelligenti, questo motivo, con la lettera che indica la mole, perché la mole, ragazzi, si indica con n piccolo. Quindi n piccolo è il numero di moli. Ed il numero di moli si può trovare in due modi, che poi noi utilizzeremo in base a ciò che abbiamo. perché ovviamente il numero di moli si può trovare. Ad esempio, andando in questa direzione, beh, se ne abbiamo il numero totale di particelle e ovviamente lo andiamo a dividere per il numero di Avogadro, quindi il numero di moli sostanzialmente è il numero di particelle totali che ho diviso il numero di Avogadro, perché il numero di Avogadro è il numero di particelle contenute in una mole. quindi se ne abbiamo un numero totale di particelle lo dividiamo per il numero di Avogadro che appunto è una costante e abbiamo un numero di moli. Se invece noi di un gas non abbiamo un numero totale ma abbiamo la sua massa totale, quindi la massa di gas, ci basta dividerla per la massa molare che è proprio quel numerino che noi abbiamo trovato, ad esempio per l'ossigeno 2, come si fa a trovare la massa molare di ossigeno 2? si va sulla tavola di Mendeleev e visto che si legge 32, che sarebbe 32 UMA per una molecola di O2, una mole pesa 32 grammi e quindi ad esempio per l'ossigeno molecolare O2 qui si usa 32 grammi, quindi questo numero si trova utilizzando la tavola di Mendeleev. di Mendeleev